ciao ciao amata a tutti buon pomeriggio benvenuti in questo nuovo video allora prima di iniziare a dire cosa facciamo oggi ma se siamo seduti qua vuol dire che ci sarà un tutorial mi si è appiattito il kill il tutto a forma di seggia va bene prima di iniziare siamo illuminati siamo illuminati guardate tu no io si illuminati va bene dai prima di iniziare il nostro video partono i i saluti saluti allora salutiamo vai alex alexia ciao ciao continua a seguirci ciao ciao messaggi messaggi commenti 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 messaggi messaggi mi piace mi piace commenti tutto poi barbie le sue sorelle ciao ciao un bacione a te continua a seguirci commenta 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 poi jasmin zero ciao jasmin anche te cominci cominta 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 io dico jasmin io jasmin dico continuo a continuo a commentare seguici e poi dopo adriana vi leggo un bacione adriana continua a commentare seguirci mettere mi piace like 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 la finito saluti finiti saluti bene ora procediamo negozi di tecnologia me ne vado ciao mi nascondo negozi di tecnologia Ma chi è lei? Ma cosa vuole? Ma che vale? Volevo acquistare un computer portatile Va bene, 2.000 euro Va bene Ah, ce l'hai? Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha Va bene, ti faccio da parte Ah, ciao Come ha detto questa qua, faremo un computer portatile per le Barbie Per me, vero? Per le Barbie Allora, l'ho scaricato dallo stesso sito di Elena Weize Weize, weize, trovate, 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 trovate Che cazzo come parli oggi, mannaggia Troverete Mannaggia, mannaggia Troverete nel video No, nel link è in descrizione Vabbè, dopo lo metterò pure, lo aggiungerò dopo Dal cellulare non si può aggiungere Nel video di ieri del cellulare Faccio vedere tutto Dove si trova e come si stampa Beh, come si stampa Ma anche mia nonna sta a stampare, dai Però io l'ho fatto vedere Dove si trova? Dove si trova? Come si trova? Però non mi faccio vedere come si stampa Va bene, sì Va bene, dai Procediamo Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ovviamente il nostro PC stampato Vedai la mia sapate fa cagare I colori della mia sapate fanno cagare Mi sto strozzando Kit del Ma perché si butta? Ma perché si butta per terra? Kit del Del Dutour Il kit del Dutour E ovviamente io lo farò con il foam board Che ancora non so Mi ricordo Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Il foam board Va 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 Perfetto E una matita Forbice Io userò oggi Visto che ce l'ho L'ho ritrovato Aia Aia Il Il Mi ha lanciato L'ha mangiata tutta Hai mangiato tutta la torta Sancicleto Hai mangiato Adesso Ho mangiato tutta la torta Ha aperto pure la Barbie Basta Basta Aiutatemi Mannaggia Procediamo Non ti prendo Qui prende Qui? Cosa sei franquette? Quando hai tu già franquette stamotte? Cosa sembro? Mister chef Che cosa sono? L'avevo la Mi sono diplomata Ragazzi cerco lavoro Mi sono diplomata Mi sono diplomata Mi sono diplomata I cavolenerie 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 Cavobobo Vabbè La colla Vabbè La colla Il nostro pc Anche dietro Ma chi è? Ma se i messaggi Vabbè Anche di qua Andremo a prendere Ma cosa è Simona? Simona! Mamma Ho fatto una frittata Che brava Vabbè 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 Il cartone Mi raccomando Pulisci a terra Pulisci a terra Vai Prendiamo la misura Prendiamo la misura Del nostro Puicci Adesso prendiamo il nostro Cutter E andiamo Non c'è che ti fa Non c'è che ti fa Prendiamo il nostro C'è chi? Adesso ti faccio mangiare No No Non ti riuscire Prendiamo tutto Tattagliate La 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 No Dopo il piatto in testa Cosa vuoi metti pure i bracci in faccia? Allora Vuoi assaggiare questo? No Ancora Ma dai Adesso Ma c'è così tanta fame Da mangiarti pure i peperoncini? Vabbè Tagliamo Buono Tagliamo in mezzo Però non fino alla Se usate questo Questo Fonboad Non fino alla fine Tagliate Vedete che Ma non è piccante Non è piccante C'è un altro spessore No non lo voglio C'è un altro spessore Non fino alla fine Non tutto come ho fatto Metà Perché così si apre e si chiude Si apre e si chiude Mentre se Se usate il cartone Non c'è bisogno Perché il cartone si piega normalmente E via Vedete Si chiude pure No? E ho già messo dentro il biadesivo Adesso andrò a togliere tutte le plastichine gialle Dopo aggiungerò Dopo aggiungerò L'ultimo biadesivo qua Se no non lo metto adesso Perché se no si accavallano E Metto sopra il pc Una volta messo il davanti Andremo ad attaccare il Pietro Sempre con biadesivo Track Track Vedete il nostro biadesivo come viene? Ora andiamo a attaccare questo qua sopra Bene bene Mi raccomando Perché una volta che Attacchi la biadesiva Ma si è tacciato Ma sono pure lecchie Una volta che attaccherete il biadesivo Non si attacca più Vieni Bene Allora Un'intrazione E' pronto? Sto compiando o no? Sto compiando E' pronto Ma vai via Vai via 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 Mi disturbano sempre Ma io non lo so io Ok Bene amici Il Computer Il computer E' quasi finito Mi fanno un po' sconfondere Sconfondere Non so che c'è sconfondere Ma no Ora andremo a mettere Farlo un po' più realistico E muoviti Andiamo a Muoviti Prendere la scatola di Barbie Il pezzo Davanti E andiamo a Ehm Chi è quel Alessia Col Cucciolare Andiamo a fare Il vetro Il vetro del pc Tagliato Tagliato La plastica Andremo a Incollarla Su come schermo Vedete? Però io prima Direi Prima di incollare questo Andare a Colorare di blu Blu il mio colore preferito Blu Questo lo mettiamo un attimo da parte Vedete ma che si sporca Andiamo a Incollare di blu Il pc Quindi Tempere Pennelli E pennelliamo E eccomi qua Mamma mia Si è fatto buio fuori Vedete guarda Ma il colore usato Nero, blu Duro Un miscuglio Però il pc Ancora un po' fresco Ciao Allora praticamente Siccome che c'è una stampante un po' brute Sto sistemando Ho ricalcato Della tastiera Della tastiera Della mouse Del pc Ora andremo a mettere Che non trovo dove c'è Lo schermo trasparente E non lo trovo Dove lo messo Dove lo messo Dove lo messo Ragazzi Poi lo trovo Lo cerca L'ho trovato Eccolo qua Pensa che Mi siamo fatti una cosa Ok Ma prenderemo La colla Un puntino Mi raccomando Un puntino Un puntino Sul bordo Con lo stuzzicadente Lo tirate Così arrivare Anche il bordo lucido Ma scusa ma io sto in piedi Si adesso ti ho risposto Bordo lucido Mettete la colla qua Qua e sotto Lo stai cucinando Con la carne Con le patate al fondo Ma no Nei capelli Con lo stuzzicadente Lo tirate E poi Ingovate Ecco a voi Adesso Risulterà Sono buia Eh lo so È buio Adesso vi faccio vedere Fuori come è buio E io sto sistemando Ci sarà Vedete Si vede la colla Ma dopo diventa Trasparente Diventa lucida Anzi Piccolo trucchetto Sempre con lo stuzzicadente Invece di fare solo il bordo Fate anche in mezzo Così non si vede la differenza Ho provato E non si vede Vedete Sembra uno specchio Vedete Tutti i bordi Colorato sotto Ho cercato di avvicinarmi al colore È difficile però avvicinarsi Ecco qua Il colore Si chiude pure il pc Si chiude Si chiude Bene amici Con questo video è tutto Noi vi salutiamo Ciao Noi vi salutiamo Vi diamo appuntamento domani Con un altro video Mi raccomando Iscrivetevi Condividete i canali E fate iscrivere i vostri amici al canale Ascoltate la campanella Per ricevere la notifica dei video Commentate Lasciate un like E Basta E commentate E ci vediamo domani E ciao E ciao E ciao E ciao E ciao E ciao